Xiane Emmers per il centrocampo e ben più di un'idea per il Pescara che ha puntato il giovane talento belga di proprietà dell'Inter, uno dei principali prospetti nerazzurri. Nativo di Lugano e prelevato nel 2015 dalle giovanili del Genk, Emmers è uno dei punti di forza della primavera di Stefano Vecchi e il Pescara lo ha messo nel mirino facendo leva sulla forte collaborazione stretta con l'Inter negli ultimi tempi, iniziata con l'operazione Biraghi Caprari di due stati fa e passata per i prestiti di Carraro e Palazzi. Emmers può adeguarsi a mezzala anche se il ruolo principale è quello di regista. E sempre a proposito di Inter, trattativa in discesa per Andrew Gravillon, il difensore Franco Guadalupense ha avuto pochissimo spazio in Serie A col Benevento e allora si avvicina il suo approdo al Pescara. Prima Gravillon però farà ritorno all'Inter che poi girerà in prestito il difensore alla corte di Zeman. Buoni riscontri anche sul fronte a Carlos Embalo. L'esterno della Guinea Bissau che al momento non rientra nei piani del Palermo ha dato la sua preferenza ad un arrivo in prestito in Biancazzurro, benché su di lui ci sia il pressing anche del Brescia di Marino, sua ex squadra. Embalo e il suo procuratore a Cardi vogliono però Pescara e la chiusura dell'affare potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Stessa deadline per due uscite prossime, praticamente tutto definito per Gans all'Ascoli. Già lunedì alla ripresa degli allenamenti del Picchio il centroavanti svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con scadenza giugno 2021. Su Mazzotta ci sono Brescia in pole position ma anche Parma ed Ascoli. La sua partenza non impone un'entrata, essendoci nel ruolo il Bebi Elisalde ma soprattutto Crescenzi, Balsano e Zampano e solo la partenza di quest'ultimo sarebbe reintegrata. Dunque l'unica ufficialità della settimana resta la gestione di Pigliacelli alla Provercelli. Il portiere è stato subito polemico verso Zeman e soprattutto verso il preparatore dei portieri Nanni attraverso una intervista rilasciata a tutto mercato web. Sullo stesso portale è arrivata la replica di Nanni. Ho sempre svolto la mia attività senza pregiudizi. Zeman ha scelto chi schierare secondo le sue insindacabili valutazioni tecniche. Non comprendo le inopportune e ambigue parole di Pigliacelli nei miei confronti, debbo contestarle e smentirle in pieno, riservandomi ogni più opportuna iniziativa a tutela della mia immagine. Intanto oggi ultimo giorno di vacanza per calciatori e staff tecnico Biancazzurri. Da domani la ripresa degli allenamenti per preparare la seconda parte della stagione e in particolare la gara del prossimo 20 gennaio allo Zaccheria di Foggia.